Chi è quell'uomo? Lo abbiamo trovato nella boscaglia, è in fin di vita Dice di avere un messaggio per il governatore, gli ho detto che è morto Che gli dovevi dire? Che hanno rapito la Maharani, gli inglesi devono aiutarci, la sua vita è in pericolo Significa che non ha... Via! Ti costerà caldo Sandokan Pagherai per quello che hai fatto, maledetto Dai, provaci Dai, dai, dai Dai, dai 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 Dai, dai Dai, dai Dai, dai Dai, dai 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 Dai, dai Dai, dai Dai, dai Dai, dai Dai, dai Allora Chi sei? Dimmi come ti chiami Chi sei? Dimmi come ti chiami Chi sei? Dimmi come ti chiami Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.